La giudica la prova di velocità classe 1 dell'Unione Ciclistica Internazionale Sandy Clare Francia Miriam invece seconda nella gara di velocità, com'è stata questa gara impegnativa? Sono molto contenta di essere riuscita a arrivare fino in finale, non me lo sarei mai aspettata Sono uno stato di forma che fa ben sperare per i prossimi campionati europei Under 23 Devo dire che ho trovato avversarie molto toste, ci è mancato poco alla vittoria Un pensiero speciale va a Claudia che ha avuto un brutto incidente al giro rosa E ci tenevo a far bene per lei Grazie Grazie Grazie